Ci affidiamo alla fortuna e ci affidiamo anche alla preparazione, che ognuno ci ha speso tempo, ci ha speso fatica e tanto sudore. Eh sì, una specie di lotteria. Per molti dei ragazzi che oggi hanno sostenuto il test d'ingresso a medicina e chirurgia, il sogno di indossare il camice rischia di rimanere tale, o quantomeno di subire una battuta d'arresto. In Italia, infatti, rispetto ai 65.378 che ci provano, ci sarà posto solo per 15.876 aspiranti medici, praticamente uno su quattro, in un paese e in un mondo che ha bisogno di medici per combattere battaglie vecchie e nuove. Avete un piano B? Sì, CTF. Stessa cosa. L'in bocca al lupo è d'obbligo, anche perché l'attuale metodo di selezione degli aspiranti medici non convince più nessuno, o quasi. Ha ancora senso mantenere un numero chiuso o comunque un test d'ingresso? Ne parlai col rettore qualche tempo fa e aveva manifestato diverse perplessità. Ma adesso anche a livello politico si sono resi conto che non è questa la scelta migliore. C'è voluto il Covid per far capire che i medici servono, il che vuol dire che anche noi dovremmo impegnarci a formare i ragazzi in modo tale che il giorno dopo la laurea siano già pronti. Spero che tutto porti a un cambiamento, che ci sia la possibilità di più posti, che a loro volta però prevedono poi delle strutture adeguate, non lo dimentichiamo, perché io non posso aprire tutti a non avere lauree. È una selezione che vada più incontro alle reali attitudini della professione medica da parte del ragazzo. Tanti ragazzi che magari hanno provato qui in passato, non ce l'hanno fatta, sono poi andati magari all'estero, si sono iscritti a medicina in Spagna o ad ontoiatria in Spagna e magari lì sono rimasti perché hanno fatto carriera e perché erano e sono diventati dei bravi dentisti o medici. Cervelli in fuga si dice, come facciamo a non farli fuggire? È la prova che i nostri sistemi di selezione non funzionano, molto chiaramente. Noi non selezioniamo i migliori, selezioniamo quelli che magari hanno più attitudine al nozionismo, si ricordano magari meglio delle informazioni, delle risposte a delle domande. Sono anni che in realtà noi lo diciamo. Dobbiamo andare incontro fortemente alle attitudini e alla voglia delle persone di fare il medico. In questo modo invece facciamo una selezione di tipo completamente diverso e non va bene. Purtroppo quello che dice è vero, magari perdiamo ragazzi che sarebbero stati degli eccellenti medici sul territorio che vanno fuori non perché preferiscono andare fuori, perché nei fatti li costringiamo ad andare fuori. Questo non dovrà succedere più. Si parla anche di altri ostacoli interni per così dire. Questa è una situazione che va cambiata. La scienza non è un qualcosa che le persone devono trattenere per sé, per gelosia che qualcun altro gli rubi il posto. Anche perché ormai è chiaro, di posti ce ne sono tanti perché c'è grande necessità di medici sul territorio. Non verrà rubato il posto a nessuno. Non verrà rubato il posto a nessuno.